Sono entrati in casa e si sono impossessati di quanto di prezioso possedeva. Mattinata amara per un'anziana di San Giorgio delle Pertiche che due notti fa ha ricevuto la visita indesiderata dei ladri. I malviventi dopo aver forzato una finestra sono entrati nell'abitazione della donna rubando le preziosi e alcune centinaia di euro. A suo risveglio l'anziana non ha potuto fare altro che contattare i carabinieri per denunciare quanto accaduto. Ai militari l'anziana ha detto di non aver sentito nulla.